Al via in Puglia la rete dei borghi più belli d'Italia. Il sodalizio punta a riqualificare in chiave turistica dieci comuni simbolo tra cui Cisternino che è capofila, Locorotondo, Alberobello, Alberona, Bovino, Roseto, Valfortore, mete da prodo per i visitatori di tutto il mondo. Politecnico e amministrazione interessate hanno sottoscritto un accordo quadro. L'obiettivo è realizzare uno studio di fattibilità sulla riqualificazione dei centri storici, una traccia in comune per migliorare viabilità, accessibilità a redi urbani. Gli studenti di ingegneria metteranno a punto il lavoro nel giro di sei mesi dopodiché la rete dei borghi pugliesi potrà accedere ai finanziamenti regionali messi a disposizione dalla legge in materia licenziata lo scorso anno dalla regione Puglia. Il rendere accessibili questi borghi significa prima di tutto abbattere le barriere architettoniche, fisiche e sensoriali e poi usare anche una tecnica nuova di cartellonistica e di informazione che tenga conto dei nuovi flussi turistici che riguardano il mondo della Cina, il mondo della Russia, giapponesi che non usa i nostri caratteri, le nostre lettere e quindi anche cartellonistica e informazione.